ciao sono sempre io ce la faremo problemi di connessione abbiamo 20 minuti di ritardo però ce la possiamo fare siamo qua per fare twerk principianti condividete la diretta grazie ciao stop ciao cherry condividiamo la diretta ovunque che così ci colleghiamo e facciamo abbiamo mezz'ora di ritardo forse non facciamo un'oretta perché tardi però abbiamo dovuto tra valentina seda sei pronta per cercare forse lo facciamo un'ora spero però dai un po lezione facciamo ok abbiamo avuto problemi perché facebook mi fa togliere le diretta quando metto la musica conosciuta è tutta la musica conosciuta mica sono io cantante ok allora wow state arrivando velocissimi condividete la diretta che così arrivano tutti e la mia super partner assistente tutto è andata a riposarsi intanto è stata bravissima a fare classic e adesso noi facciamo twerking basic per principianti c'è tanta gente che ha paura del twerk perché dice che è volgare perché dice che è solo per giovani allora penso che io sono la insegnante più vecchia di twerk in italia perché io ho 40 anni e vedo che tutte le insegnanti hanno 90 anni 30 al massimo però vi posso dire una cosa a livello fisico grazie per tutti questi cuori grazie perché siete già in tantissimi vi dico una cosa io ho 40 anni fisicamente mi sento molto meglio che quando aveva 20 e sicuramente tanto legato alla danza il twerk per me a livello fisico ha fatto tantissimo anche perché io ho un ginocchio rotto chi mi conosce sa che ho un ginocchio perso se ha crociato che menisco non ho più niente e allora il twerk per me ha aiutato moltissimo a rinforzare a diventare forte ok a parte anche power lo devo dire va bene allora a questo punto sono pronti per ballare e per twerkare ci siamo cambiati a posto abbiamo le ginocchiere però se voi non avete ginocchiere mettete un qualcosa a terra un tessuto qualcosa e quando vi volete in quanto vi volete approfittate di pulire il pavimento così bene facciamo un riscaldamento per chi sta iniziando la lezione adesso questa è una lezione dei twerk interamente per principianti per chi ha paura di provare e vuole capire cos'è ok iniziamo condividetela per chi ha paura di provare e vuole capire per chi ha paura di provare e vuole capire per chi ha paura di provare e vuole capire per chi ha passato per chi ha paura di provare per chi ha paura di provare e vuole capire per chi ha paura di provare per chi ha paura di provare e vuole capir Accima, 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 accima. Casi, shortos, cadenza, che si trova, eh? Sì, Sì, Sì Sì Sì, 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 Sì Quanti siamo? Siamo un montone Ok, allora ci siamo Siamo pronti? Fasi basic, ok? Ok Sì, Sì 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 Arriba! Annamar y Maria Cristina Buen la caseta quemando algo en la cocina Cuma lo pulmoni pa' la mente medicina Gen-gen, buen idioma, no, no, casasina Buen suerte, buen suerte Buen suerte!